Musica Benvenuti alla resegna stampa di oggi, occhio ai giornali 22 di dicembre 2016 questa è Fano TV, canale 17 del digitale terrestre cominciamo dal santo del giorno, il santo di oggi, la chiesa cattolica ricorda oggi e fa memoria di Santa Francesca Saverio Cabrini il sole è sorto alle 7.39, tramonterà alle 16.35 per quanto riguarda il tempo, il cielo oggi sarà sereno o poco nuvoloso con temperature in diminuzione, le 7 circa erano 4 gradi qui sulla costa domani tempo ancora poco nuvoloso, con temperature senza variazione di rilievo attenzione alle possibili foschie o nebbie lungo la costa lungo la fascia costiera soprattutto centro-settentrionale e sabato la vigilia di Natale sarà una vigilia serena con poche nuvole, poche nuvole in transito temperature in lieve aumento nei valori massimi in lieve diminuzione invece quelli minimi il tempo sarà stabile sulle Marche almeno fino all'inizio della settimana prossima con temperature in ulteriore aumento insomma tutti al mare andiamo adesso invece a vedere a posto di andare in montagna a sciare o di vedere un po' di neve paesaggi natalizi soltanto sulle cartoline con la neve solo lì allora cominciamo la nostra rassegna stampa dal Corriere Adriatico il Corriere Adriatico edizione di Pesaro vendetta contro l'ex agguato in casa questa è la cronaca tenta di soffocarla poi prova ad uccidersi la donna aveva deposto contro di lui in tribunale soltanto il giorno prima era agli arresti domiciliari nel Riminese perché doveva stare lontano dalla sua ex moglie dopo averla aggredita e minacciata ma dopo l'udienza del processo che si era tenuta però poche ore prima e dove la donna aveva deposto contro l'ex marito ricordando in lacrime le angherie subite è andato a casa con un piede di porco si è fatto largo è entrato dentro e poi insomma l'ha tenuta lì per tre ore circa fino a quando lei non si è riuscita a tra virgolette liberare farlo occupare d'altro al suo ex marito era al telefono con un'altra donna e lei invece ha chiamato con il suo cellulare il 112 che immediatamente è arrivata a casa e ha arrestato l'uomo quindi dai domiciliari è passato al carcere la pagina sempre principale con la foto grande per gli sfollati tra hotel e camper Natale di Speranza dopo Lutti e Macerie stiamo pensando e stiamo parlando chiaramente dei terremotati sei storie dai borghi sconvolti dal terremoto arriverà il Natale il freddo è già arrivato un po' di neve è arrivata adesso speriamo che arrivi anche un po' di serenità un po' di pace in quelle terre Fano ultimo in classifica ma la squadra vuole ripartire stiamo parlando del Fano Calcio dell'Alma Juventus Fano che insomma non se la sta passando un gran che bene andiamo adesso sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico caos viario e sosta selvaggia si cerca di correre ai ripari nuovi piani del traffico e programmazione per eliminare i punti di maggiore rischio oggi alle 11 intanto con una breve cerimonia di inaugurazione nell'oratorio di San Cristoforo verrà aperto alla circolazione il nuovo tratto della strada interquartieri e precisamente quello che va dalla rotonda di via Roma fino alla rotonda di via Trave si sono infatti concluse tutte le operazioni di collaudo della nuova struttura travolto dalle ruote del rimorchio un ciclista adesso è grave al Torrette di Ancona dramma accaduto vicino all'aeroporto un 58enne di Saltara ha riportato lesioni ad una gamba i tre poli risposta giusta alle esigenze delle imprese CISL favorevole al riassetto degli istituti scolastici occorre personale più qualificato la CISL di Fano esprime soddisfazione per il nuovo assetto organizzativo degli istituti scolastici di secondo grado che vede la creazione di tre poli fanesi raggruppati per affinità didattiche e offerte formative complementari complementari l'opportunità di qualificare l'offerta formativa degli studenti e di rispondere alle richieste di nuove professionalità Amore per il ricamo ho riscoperto il punto Fano affollata conferenza recupera la storia e l'arte di un secolo fa ed è stata sorpresa che un'attività che si può considerare ormai da altri tempi attirasse ancora tanti appassionati e la riprova di quanto interesse ancora desti questa preziosa manualità la si è avuta l'altro giorno quando una moltitudine di persone tanto da affollare interamente la sala di Palazzo San Michele ha assistito alla conferenza stampa svolta dalla professoressa Rosella Bevilacqua e dall'artista artigiana Anna Maria Atturo sta parlando di ricamo poi Antares ormai in ginocchio l'area vasta non ci paga e questa è la fotografia del personale con dietro vedete i mezzi per il trasporto sanitario trasporti in allarme il Presidente che ha un debito di 60 mila euro abbiamo i giorni contati dice il Presidente la situazione si trascina dal 2014 è stata introdotta la liquidazione delle fatture all'80% cure palliative fanno una struttura leggera l'auspicio di Santini per 70 bambini inguaribili ce l'ha promesso Volpini dice il Presidente dalla Valle del Cesano comuni ricicloni assegnati i premi ora la Val Cesano è in testa alla classifica raccolta differenziata primo in provincia il comune di Mondolfo seguito da San Lorenzo al terzo invece c'è Cartoceto presepe paese rievocazione tra storia e fede siamo sempre a Mondolfo la natività nel castello sarà animata nei pomeriggi di Santo Stefano e dell'Epifania teppisti ancora in azione invece a Marotta danni al negozio di tatuaggi disegni volgari tracciati all'esterno con lo spray la titolare adesso lancia un appello chi ha visto mi aiuti e vedete come hanno ridotto le vetrine di questo negozio in via litoranea a Marotta a Mondolfo connessione gratuita internet il servizio wifi attivato al Museo Civico e al complesso Sant'Agustino per cultura smart Senigallia senza lavoro e senza casa sono come un fantasma l'ex pescatore Beretta è disperato non ha residenza e non può avere aiuti ha 45 anni è senza fissa dimora e non può lavorare Mandolini dice un caso estremo lo farò contattare dai nostri servizi sociali auto finisce in trappola nel cantiere del ponte sempre a Senigallia caos traffico in centro commercianti e pedoni lamentano disagi da Pesaro primo piano rischio mafia il pericolo è in agguato dalle indagini piovra con tanti tentacoli i sindacati di polizia reagiscono alle rassicurazioni del prefetto Pizzi statistica insufficiente secondo il sindacato per l'analisi a Pesaro scoperti traffici di tutti i sodalizi criminali poco personale il caso Urbino la regione istituisca un osservatorio ad hoc e l'appello conclusivo del procuratore Palumbo dopo 8 anni di inchiesta il magistrato che adesso se ne va in pensione la pagina di Pesaro del resto del calino invece apre con il recupero il recupero della tela rubata per ben due volte la vedete in questa fotografia a centro pagina la via Crucis prelevata al Duomo di Urbania che è stata lasciata lungo una strada era già caduto vent'anni addietro Palazzo Antaldi non si vende più la svolta di Cangiotti presidente della fondazione Cari Pesaro Carisp ospiterà gli uffici della Caritas e il museo Rossignano mentre la cronaca travolto da un'auto gravi un ragazzino di 11 anni era sul ciglio della strada a Gradara adesso si trova ricoverato in proniosi riservata il menu della vigilia sulla pagina di Fano assalto in pescheria fioccano le prenotazioni la marineria schiera l'intera flotta ma occhio ai prezzi la tempistica dice Giardini in mare si andrà fino a giovedì notte tempo permettendo dunque il pesce sarà freschissimo e della marineria parla anche il consigliere regionale Boris Rapa che si appella ai marottesi per preservare l'identità marinara che addirittura secondo Boris Rapa dovrebbe diventare un brand un marchio un marchio per parlare di chi? di Marotta di Mondolfo insomma si può valorizzare il comune anche passando dalla marineria la cronaca gamba maciullata sotto il tir soccorso ciclista è gravissimo trascinato per molti metri non ha mai perso conoscenza è ferito è un cinquantotenne di Saltara l'uomo potrebbe aver sbandato per una buca scrive il giornale o per lo spostamento d'aria provocato dal tir mentre guardate questo giovane si chiama Cristian Cappello forse qualcuno ai più attenti dirà qualcosa perché è andato a finire sui giornali e sulle cronache nazionali è una persona che sta facendo una corsa benefica e farà tappa a Fano è partito a piedi da Bassano del Grappo pensate il 2 di aprile scorso data in cui sarebbe dovuto nascere suo figlio Leonardo se la moglie Marta che lo aveva in grembo non fosse morta in sala parto la mattina del 29 dicembre scorso e allora oggi fa tappa a Fano questo cammino di Cristian Cappello che sta attraversando l'Italia per accendere i riflettori sui bimbi malati di fibrosi cistica e allora domani invece dicono gli organizzatori lo accompagneremo a Pesaro partendo da Piazza 20 Settembre alle 10 e 30 quindi chi si vuole unire può far parte della comitiva a piedi si va tutti oggi si accoglie e domani invece si va tutti a Pesaro trasporto sanitario anche qui l'Asur non paga così scompariremo dice il presidente dell'Antare Sonlus di Fano Giorgio Scrofani che aggiunge l'associazione ha un buco di bilancio di 50 mila euro fusione qui andiamo a Monte Maggiore al Metauro fusione manifesti a lutto tirano in ballo anche il prete interviene il vescovo di Fano Trasarti a Monte Maggiore il clima è sempre più teso stiamo parlando di manifesti a lutto con lo stema addirittura comunale in grossa evidenza chiaramente è un manifesto che qualcuno ha pubblicato per così ancora una volta ironizzare su quello che è accaduto sulla fusione forzata del comune di Monte Maggiore con gli altri due comuni cioè quello di Saltare e quello di Serrungarina e nel testo adesso qui si vede poco ma nel testo si dice che il 6 dicembre è venuto a mancare il comune di Monte Maggiore perché sapete che tra qualche giorno il comune di Monte Maggiore cambierà nome diventerà Colli al Metauro e ne danno felice annuncio chiaramente ironizzando con sarcasmo il sindaco i dottori e qui ci hanno messo dentro il prete e lì il problema e qualche insignificante sacrestano ecco questo è il manifesto chiaramente il parroco se l'è presa per questa per questa cosa almeno così ci riferiscono così scrive il giornale è dovuto intervenire il vescovo per cercare di con una con una lettera il vescovo Trasarti scrive Franceschetti sul resto del carino di questa mattina si è espresso nero su bianco sua eccellenza Monsignor Trasarti che è venuto a conoscenza dell'episodio e ha scritto al prete e alla sua comunità troverete quello che ha scritto una sintesi quello che ha scritto il vescovo al sacerdote e alla comunità nell'articolo pubblicato qui sul giornale sul giornale di questa mattina poi Saltara zona laghi la denuncia l'isola ecologica come una discarica guardate qua insomma tutto mondo il paese verrebbe da dire come al solito però anche qui guardate che roba insomma la situazione e l'immagine non è certo natalizia verrebbe da dire è recuperata la tela rubata in Duomo a Urbania la polizia di Urbino ritrova la via Crucis che viene trafugata anche negli anni 90 a questo punto forse sarebbe meglio magari metterla da qualche altra parte o proteggerla meglio camion in bilico sul Biscubio guardate che immagine impressionante che pubblica il giornale questa mattina lungo la strada provinciale Pecchiese oltre 4 km dopo Piobbico salendo verso Pecchio vedete questo grosso camion con un container di ferro che si è ribaltato ieri mattina prima di mezzogiorno adagiandosi sul guardrail ieri è stata una giornata terribile per quanto riguarda i camion poi ce n'era un altro lo stesso un auto spurgo da qualche parte che lo stesso ha fatto dei danni questo a Piobbico a Fano ci è finito sotto un ciclista insomma ieri è una giornata nera per i camion mentre un'auto in fiamme contro una casa che si incendia guardate che roba a Fossombrone il conducente è sceso ed è stato persino colpito da infarto per la paura adesso è grave è un incendio che si è verificato ieri intorno alle 5.40 del pomeriggio a Fossombrone nella zona dell'ospedale in via delle tinte la macchina una Mercedes classe A che era alimentata a metano che ha preso improvvisamente fuoco mentre era in marcia e questo conducente di 50 anni un moratore del posto ha avuto molta paura e si è sentito addirittura male e adesso il giornale dice che è grave ricoverato in ospedale noi ci fermiamo qui per quanto riguarda la rassegna stampa grazie per averci seguito vi auguro una buona giornata vi ricordo che questa sera c'è il telegiornale e vi ricordo che ancora ci sono un paio di giorni per poter partecipare al nostro piccolo concorso dedicato ai presepi alla scoperta dei presepi inviateci le vostre fotografie tre di cui almeno una deve essere con chi realizza e ha realizzato l'opera quindi con la foto l'immagine di chi l'ha realizzato oppure un video non superiore ai 30 secondi poi tutto questo materiale lo potete inviare solo ed esclusivamente via email all'indirizzo di posta elettronica presepi chiocciola fanotv.it è tutto grazie e buona giornata grazie a tutti grazie a tutti